Lo Stato chiama, i cittadini devono rispondere. Ora più che mai è importante la collaborazione. Per debellare la malapianta della criminalità c'è bisogno della collaborazione dei cittadini e delle vittime di atti di intimidazione, soprusi e violenze. Dopo le due operazioni messe a segno dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Guardia di Finanza, che hanno portato complessivamente alla notifica di circa 100 misure restrittive nei confronti di appartenenti ad organizzazioni criminali dell'agro nocerino sarnese, c'è bisogno di scalfire il muro dell'indifferenza di una comunità che sembrava rassegnata, ma che in realtà sta contribuendo ai successi delle forze dell'ordine degli ultimi giorni. Ed ora arriva il monito ai cittadini e dalle istituzioni a fare rete e avere il coraggio di denunciare per rafforzare l'azione degli inquirenti. L'Omertano ne ha fatto una prerogativa di queste terre, anzi, ad esserne convinto è il comandante del reparto territoriale dell'arma, il colonnello Rosario Di Gheangi. Questo è un territorio, voi lo sapete perfettamente, che ha una tradizione camorristica che è stata segnata soprattutto nei decenni scorsi dalla presenza di sodalizi locali che appartenevano a dei cartelli camorristici molto più ampi, che portavano anche al territorio napoletano e che avevano un orizzonte regionale. Questi grossi cartelli camorristici poi, anche per effetto dell'azione repressiva dello Stato, per certi versi si sono destrutturati, ma questo non significa che localmente sia avvenuta meno la presenza della criminalità organizzata. Quello che al sud, nei territori dove c'è sempre stata la criminalità organizzata, la gente sia omertosa, che non cambierà mai nulla, perché se si denuncia tanto prima o poi te la fanno pagare, è importante uscire da questo equivoco. Se noi diciamo che non cambierà mai nulla e che la gente è omertosa, secondo me diciamo una cosa che non è vera e soprattutto facciamo un regalo in merita dalle organizzazioni criminali, perché gettiamo tutti quanti nello sconforto e nella rassegnazione. È vero che la gente è restia a denunciare e che la gente ha paura. Questa paura va rispettata, perché non si può pretendere dalla gente dei quotidiani atti di eroismo, gli atti di eroismo sono tali perché sono isolati. Quello che invece vogliamo sollecitare è l'impegno quotidiano comune. I diroismo sono tali perché sono isolati. Quello che secondo me dobbiamo sollecitare invece è la collaborazione quotidiana nelle piccole cose da parte della gente. Denunciare i reati è importante perché soprattutto le estorsioni, soprattutto tutte le pratiche minacciose, vessatorie, violente su cui si basa il profitto della criminalità organizzata, queste forme parassitarie della criminalità organizzata nei confronti dell'economia e della società civile. È importante denunciarle perché il camorrista, l'estorsore, non fa paura perché è un energumeno o perché è bravo a sparare. L'estorsore fa paura perché ha alle spalle un'organizzazione, ha alle spalle un gruppo. Bisogna contrastare una forza analoga alle organizzazioni criminali al fine di renderle innocue, al fine di liberare la società civile dalla loro oppressione. Se l'imprenditore che denuncia è isolato ovviamente è più debole e ovviamente può essere colpito. Colpire l'imprenditore isolato ovviamente è una forma di ammaestramento che l'organizzazione criminale vuole rivolgere a tutta la società per incudere timore a tutti gli altri e prevenire altre forme di denuncia. Se l'imprenditore che denuncia invece non è isolato ma è accompagnato da altri imprenditori che come lui intendono intraprendere questa strada di dignità e di coraggio, non rimane isolato e quindi è ancora più forte. La società civile si equalizza e tende a isolare invece i gruppi criminali e a neutralizzare la loro azione vessatoria sul territorio. Nel momento in cui l'imprenditore denuncia si sente esposto e a volte è effettivamente esposto e rispetto a questa situazione noi dobbiamo organizzarci per approntare la vigilanza e la tutela che serve non solo per proteggerlo dal punto di vista dell'incolumità personale ma anche per proteggere i suoi beni, le sue attività commerciali, le sue abitazioni, la sua serenità familiare. Le caserme sono sempre aperte non soltanto quando la gente deve venirci a denunciare un reato che ha subito ma anche quando ha intenzione di venirci a sottolineare che noi abbiamo sbagliato qualcosa nell'ambito della nostra attività operativa. Questo ovviamente può servire a migliorarci, può servire a fare ammenda dei nostri errori e soprattutto può servire a migliorare le condizioni di sicurezza di tutta la comunità. Grazie.